Che giù, darling. Grazie, mister. Ma come? La bistecca. Ma di che? No, dico, la bistecca alla mattina. Bene. Commenda, io alla mattina faccio colazione americana. Qua trovo il beco. Una bella cotonetta di vitella, che dà sostanza senza pesanti. Buro, mamelata, la mostata, dei milk e latte, cretto juice. Va fuori, commenda, c'è il sacco di roba qui. Eh, magari. No, no.